Lo stallo in cui versa la Camera di Commercio Irpini-Assagno il prevalere dei personalismi hanno l'unico effetto di penalizzare le piccole imprese. Da qui la richiesta della CNA di Avellino al commissario ad acta dell'ente camerale di stanziare subito 3 milioni di euro per contribuire ai costi energetici delle piccole imprese delle province di Avellino e Benevento. C'è un sostegno limitato della regione Campania per quanto riguarda le aziende più strutturate che si occupano di manifattura. Noi pensiamo che bisogna essere vicino alle piccole imprese anche attraverso gli strumenti che abbiamo. Abbiamo ad esempio la Camera di Commercio, è in questo momento un ente in difficoltà commissariato per il bilancio al quale però chiediamo, abbiamo chiesto al commissario, di stanziare 3 milioni di euro per sostenere le spese delle piccole imprese. La Camera di Commercio torni quindi ad occuparsi delle imprese, soprattutto di quelle che non hanno la forza di farcela da sole. Si lavori affinché un ente che dovrebbe essere la casa delle imprese torni ad esserlo veramente. La decisione di Bruno sta in tutte le sue mani perché fino ad oggi, anche dopo la nomina del commissario, abbiamo fatto diverse richieste come giunta ma Bruno non risponde. O se risponde, risponde male. Quindi siamo in attesa delle sue decisioni. Noi continueremo a fare le nostre proposte, abbiamo chiesto anche un incontro col commissario ad Acchetta perché riteniamo che l'ente di cui facciamo parte debba essere veramente di supporto per le imprese e per i territori. Grazie. 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 Grazie.